Chiuse le iscrizioni al torneo Challenger ATP, città di Como, che si disputerà sui campi di Villa Olmo dal 26 agosto al 1 settembre. L'elenco degli iscritti preannuncia già un'edizione 2019 di alto livello. Nella lista figura infatti il campione uscente Salvatore Caruso, oggi numero 103 al mondo, mentre non ci sarà il finalista di un anno fa, il cileno Christian Garin, oggi numero 37 al mondo, e che sarà in corsa nel tabellone principale degli US Open. Tra i nomi di grande richiamo Stefano Gravaglia, numero 79 dell'ATP, che dovrebbe anche essere la testa di serie numero 1, torneranno a Como anche Tommy Robredo, il brasiliano Thomas Bellucci, già numero 21 delle classifiche mondiali, e Dustin Dreddy Brown, che un anno fa a Como vinse il torneo di doppio. Dopo tanti anni il Challenger di Como, per volere dell'ATP, cambierà la formula. Non più un tabellone di qualificazione e uno principale, ma un mini-tabellone, con due sole partite e quattro giocatori e un maximum in draw, con 48 giocatori e 16 teste di serie avanti di un turno. Per aggiudicarsi il torneo, chi dovesse partire dal primo turno dovrà vincere sei match rispetto ai cinque di un anno fa. Il torneo scatterà lunedì, il 26 agosto, con la finale in calendario il primo settembre. Il torneo di Come, per volere dell'ATP, cambierà la testa di un anno fa. Il torneo di Come, per volere dell'ATP, cambierà la testa di un anno fa.